Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete autostradale della Toscana. Sulla A1 in direzione Bologna per lavori sono chiuse le corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Sulla FIPILI segnalato un veicolo in avaria tra Firenze Scandicci e Scandicci in direzione Mare. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Pruneta. Sulla regionale 69 Valdarno senso unico alternato per lavori al chilometro 1,700 nel comune di Pelago. La viabilità cittadina a Firenze via Palazzuolo chiusa per lavori tra via Benedetta e via De Canacci. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!